Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a miglior zaino porta PC. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base, al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo della GAO Zaino Uomo. Questo zaino da uomo funziona con tre tasche principali e nove piccole tasche interne. Uno scomparto imbottito separato può ospitare un computer portatile. Con slot di ricarica USB, questo zaino USB offre un modo più conveniente per caricare il telefono mentre si cammina. Il retro di questo zaino da viaggio è progettato con una cinghia per bagagli in modo da poter fissare lo zaino sulla valigia. Questo zaino per computer con una password di blocco. Questo elegante zaino per computer portatile è realizzato in tessuto idrorepellente di alta qualità e durevole. Confortevole, il design ergonomico offre una tracolla regolabile e imbottita per alleviare la pressione sulla schiena e le spalle. I fianchi sono anche dotati di cinghie per un miglior supporto. Sicurezza. Questo zaino viene fornito con un lucchetto a combinazione integrato per proteggere il contenuto dello zaino. Numero 4. Samsonite Guardi T2.0. Lo zaino Samsonite Guardi T2.0 PC Backpack è il modo perfetto per proteggere il vostro computer portatile mentre siete in viaggio. Questo zaino è dotato di uno scomparto imbottito che manterrà il vostro computer portatile al sicuro e protetto, garantendo al contempo un'ampia ventilazione per mantenerlo fresco. La Smart Sleeve presente in tutti i modelli consente di infilare facilmente lo zaino in un'altra borsa per facilitarne il trasporto, mentre la tasca morbidamente foderata è perfetta per riporre occhiali da sole, biglietti e altri piccoli oggetti. Inoltre, l'organizzazione interna riprogettata consente di adattarsi facilmente ai dispositivi elettronici più recenti. Questo zaino è realizzato in materiale resistente all'acqua per una maggiore durata e protezione, mentre il design ergonomico assicura un confort ottimale anche quando si viaggia per lunghi periodi. Terzo posto c'è Bursun Zaino PC Portatili. Questo zaino per laptop Bursun è progettato con una porta di ricarica USB esterna, una porta per cuffie e un cavo di ricarica interno sul lato, che lo rendono perfetto per ricaricare i dispositivi in movimento. Lo zaino per laptop è dotato di tasche antifurto nascoste sul retro per riporre in modo facile e sicuro passaporto, portafoglio, cellulare e altri oggetti di valore. Questo zaino per laptop leggero ed elegante è realizzato in tessuto impermeabile di alta qualità e resistente, perfetto per essere utilizzato come zaino da lavoro, zaino da viaggio all'aperto o borsa a mano per tutti i giorni. Numero 2, XQX A Zaino PC Portatili. Cercate uno zaino affidabile e spazioso da portare in viaggio. Non cercate altro che lo zaino per laptop XQX A. Questo zaino può contenere un computer portatile di dimensioni inferiori a 39,6 cm, il che lo rende perfetto per trasportare i vostri oggetti essenziali mentre siete in viaggio. Lo scomparto principale è abbastanza spazioso per riporre libri o altri oggetti ed è dotato di una porta USB che consente di ricaricare facilmente il telefono durante i viaggi. Lo zaino per laptop da uomo è realizzato in tessuto Oxford impermeabile, antigraffio e antistrappo, per garantire che i vostri effetti personali siano protetti dalle intemperie. Inoltre, lo zaino è dotato di una tracolla imbottita regolabile che offre un comfort ottimale durante il trasporto. Non esitate a portare con voi lo zaino per laptop XQX A in viaggio. Fine, il numero 1 della nostra lista, Matein Zaino. Matein Menesse Laptop Backpack è il miglior zaino per gli uomini che sono sempre in movimento. Questo zaino per PC include una porta di ricarica USB e un cavo di ricarica per ricaricare il telefono mentre si cammina. Una tasca antifurto nascosta per proteggere i tuoi oggetti e renderli facili da estrarre. Questa leggera borsa per laptop ha abbastanza spazio per tutto ciò di cui hai bisogno durante i viaggi o il pendolarismo. È uno zaino perfetto per studenti con laptop da 15,6 pollici, iPad, libri, raccoglitori, cartelle e materiale scolastico. Per sempre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.